Benvenuti a questo nuovo video, io sono FabiJ e oggi l'episodio finale di Minecraft The Jump Dove dobbiamo arrivare alla fine Abbiamo fatto tutto sto pezzaccio enorme dall'inizio che sta lì Fa tutto quel casino Siamo arrivati là Di qua, tutto in quanto è un casino Siamo arrivati fino là Qua davanti, il labirinto, ho fatto tutto quello Siamo andati laggiù, il ghiaccio, il fuoco Siamo arrivati, abbiamo fatto tutto quel coso laggiù I salti, gli slime, le nuvole fino qua E siamo arrivati qui Oggi vediamo se in un episodio riusciamo a farlo Come ci dovrebbe essere, Pietro? No Io non voglio giocare a questo gioco Amico, ti prego, lefta Partito un secondo, ti prego Leftala, leftala Ma perché c'è un narratore che vi parla Quando tu entri nel gioco e quando esce? Scrivi qualcosa in chat, ti prego Qualsiasi cosa Da te cos'è scemo chi legge Da dai C'è il narratore No, più che altro devi dire scemo chi ascolta C'è il narratore che dice quello che scrivi Va bene, allora Dobbiamo arrivare alla fine di questo livello Ce la faremo Anche io Io basta, farò il video non parlando ma scrivendo Ok Un gran commento arriva a Martini Pietro Let's go amico mio Let's go Su con la vita Su con il morale Su con il morale Da te cos'è scemo farbacco Non rieso a fare questo pezzo Non rieso Let's go Le scale Let's get it Ce l'ho fatta Allora adesso sulle scale Dobbiamo riuscire a fare questa cosa Ok Ok e uno l'abbiamo fatto In teoria il giro delle scale è abbastanza semplice ragazzi Ho sempre riuscito a farlo Ok Ce l'ho fatta Sono forte Tutto di lato amico mio Tutto di lato Allora Dovremmo arrivare Ah qua c'è un altro cubo Ok Ci sei? No Ok allora Devi credere in me adesso amico Credi in me No Baby E infatti non ho creduto per nulla Oh 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 my god No 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 Che vita brutta Ho visto la morte in diretta E la morte l'ho vista anch'io Eterna Ce l'ho fatta amico ce l'ho fatta Voglio morire adesso No aspetta non l'ho controllato Si funzionava il checkpoint Funzionava il checkpoint Cattro Per un attimo ho detto no va bene Non mi hanno preso il checkpoint Mamma mia che cacca Ok provo io provo io provo io Prova provo Mi fai il tipo Il tipo Il tipo Il tipo Mi fai il tipo Scrivi no Scrivi in chat Ok aspetta 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 La mia via party Uno due tre Via Fammi se sforza da te con forza Da te con forza Da te Ok guarda Se cadevi al pietro schifo morivo Perché alla fine Era tutto sincronizzato con ogni salto L'ultimo era il pietro schifo Se cadevi Era bellissimo No 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 All right then Keep your secrets Guardalo Guardalo là Che speedrunner What a pro gamer Ho fatto la speedrun di questo pezzo Nessuno l'ha mai fatto più veloce di me Lo dico io Questo è un caduto Però ok L'importante è piccoli pezzi No Non si può togliere la fisicità tra noi due Che fastidio Detta così sembra molto gay Eh la madonna Che cosa sei Rocky Balboa Ma hai tirato un pugno Sono finito a Kuzbekistan Ma cos'è Succede Ma dicchia Se mi tiri un pugno Finisco il livello Ma cos'è Proviamo Eh Sì Magari c'è la fisica aumentata Ma veramente funziona Sta tecnica Allora Te l'immagini Ecco vedi Quel sacco di femmini infotte ogni volta Secondo me non dobbiamo andare lì Sì sì L'ho fatto Prima l'ho fatto io È vero Funziona Scherzavo E come fai ad andare più avanti E come hai fatto a cadere più avanti Eh Poi perché poi Ah ok 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 Mamma mia Aspetta che sono caduto Ok Lore Lore Oh Lore Non lo so C'è un passaggio segreto No è un buco segreto Lore Come ci esco da qui Che bel gioco Che bel gioco Sono in trappa Lore Eh mori Ok Checkpoint Amico mio Checkpoint Let's go Morto subito Ma va bene così Adesso andiamo ancora più avanti Vieni amico mio Oddio Hai capito No Ma non è vero Ma a parte quello Ma a parte A parte che sono caduto di sotto Come ho fatto Oh Lore Occhio a cadere qua Che se tocchi il checkpoint È un casino Eh sì esatto Mamma mia Lo stavo toccando Spero di muoverti Ok Ma no ma Ok 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 Ce l'ho fatta Ok qua devo arrivare Qua è facile Perfetto E adesso devo arrivare Da qua dove arrivo Oh mio dio Ok Ci provo No Era difficilissimo C'è riuscito Vai ti prego Vai No Ma cosa mi picchi Anche tu Era l'ultimo Era difficilissimo Amici Si può fare È fattibile Dai ragazzi Dai 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 Ce l'ho fatta amico Ce l'ho fatta L'ho preso L'ho preso L'ho preso Per un attimo Ho avuto la cacca di non averlo preso Aspetta aspetta Guarda devo grapparti la sky Io non ho visto neanche cosa c'è dopo Non mi Non voglio sapere Io però Eh adesso c'è di tu E non sono riuscito ad aggrapparmi Ok Allora adesso c'è un blocco Guarda che non manca molto alla fine Mancano pochissimi pezzi Quindi andiamo Convinti Buono 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 No 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 Sono caduto in mente i tempi diversi No Dai Ok una volta arrivato qua Devo fare attenzione Che devo Ma io mi sa che devo saltare Da una scala all'altra Capito O faccio così Era buono anche così amico L'ultimo salto Mamma mia Mamma mia Puoi suicidarti Suiciditi Posso? Suiciditi Let's go su Manca pochissimo Vedo la fine amico Vedo la fine È pieno di iscritti alla fine Vedo la luce Mamma mia La prossima volta che mi dici Registriamo Io ti chiedo La mappa Le recensioni Tutto ti chiedo No e fai bene Analisi accurata Perché un'altra mappa così Fai solo bene Fin qua è abbastanza semplice ragazzi Però Dobbiamo arrivare Vi ricordo laggiù Che sei che stai morendo Ah ok Mi piace Come tempo libero Come hobby Io abbraccio cactus Quindi tranquillo E pensavo anch'io Di fare questa cosa Dov'è che la si fa? A Milano? Allora qua è un salto in diagonale È un casino Però ci proviamo lo stesso Forse devo fare Così Credo che anche a Pietro Stia andando bene Allora Siamo qua Siamo qua Perfetto Sono sull'ultimo blocco Sai che voglio provare da qua? E infatti Ho fatto benissimo Ho fatto benissimo Amico Mamma mia La potenza del parkour Nelle mie mani La patata a me Allora ci sono le ultime due cose da fare Una è questa Allora tu non mi devi spegnere Madonna come hai fatto? Hai fatto un comeback mentre cadevi Oh Amici di amici di amici Ce l'ho fatta Allora c'è un altro salto da fare amico Sei pronto? Vai Let's go Ce l'ho fatta fare anche questo E poi anche quest'altro Mio dio Mio dio Tutto a posto Ok Orca vacca Ma che cosa è successo? Non lo so Sei un po' tipo ubriaco Tranquillo amico Arrivo al checkpoint Ok Grazie Ok Molto bene Oh guarda che ti ho preso il checkpoint No no ancora scherzavo So to this map You fool Pensavi che questa mappa fosse facile Ci sono delle scritte Bene Questa cosa finirà adesso Con una delle cose più difficili di minecraft Il 5b jump Che cos'è il 5b jump? No Oh no È quello di prima Lore Cos'è il 5b jump? Ok 5b jump 5b block jump Quello di prima Eh vabbè ma scusami l'abbiamo fatto prima Quindi poi è più difficili Ok mi sa che è un po' È difficilissimo Ragazzi è veramente difficile Mannaglia l'ultimo salto Ma non puoi andare scusami a sinistra lì Vai vai Ti provo a sparare io Porca E che devi correre nel mentre Capito vai Ma da punta È sempre bellissimo darti i pugni da dietro Sai È tutta una scusa per tirarti i pugni Ah Avevo per picchiarmi Madonna Che volo assurdo Tanto è da fare È normale da fare Non è Non è Se lo fai così Guarda che ce la fai Eh Se lo fai Punta a sinistra Punta a sinistra Fidati di me Fidati della mia parola Wow We're together Together my friend E la mappa È finita L'ultimo pezzo Ma non è cheat Perché comunque non c'è scritto che non lo possiate Non c'è scritto In nessuna parte che non lo puoi fare Ragazzi io non so cosa dire Oh mio Dio Sono veramente contento Go here Go here to finish the map Thank you for playing Easter eggs Ah ti fa vedere gli easter eggs Ah ti fa vedere dove sono Capito dove erano Quindi ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Ringrazio Pietro Per aver partecipato E per aver Preso le scopole Nel ciappet Da me In questo momento mi sta picchiando Ma non si vede Perché non ho messo gioco Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi Non so se il video vi è piaciuto Lasciate un commento e un mi piace Anche i vari social commento Nella descrizione Se non siete a questo Iscrivetevi E noi ci vediamo Ad un prossimo parkour Un po' più easy magari eh Beh ragazzi E noi ci vediamo Ciao